Salve a tutti, mi presento, mi chiamo Andrea Spadoni e do una laurea magistrale in scienze tecniche dell'attività motore preventiva ed adattata. Da anni collaboro con la Diabetologia di Ravenna, con l'Associazione Diabetici Ravennate e con la Medicina dello Sport di Ravenna per promuovere l'esercizio fisico di un corretto stile di vita alle persone affettere a diabete di tipo 2. Nel video che andrete a vedere, l'allieva protagonista, nonché diabetica, sarà Piera la nostra coordinatrice dell'attività fisica di diabete e ballo. Eseguirà diversi esercizi così suddivisi, riscaldamento ed allenamento cardiovascolare, esercizi di tonificazione, esercizi di stretching ed infine esercizi per il miglioramento dell'equilibrio. Tutti questi esercizi possono essere svolti comodamente a casa, anche in poco spazio, il materiale necessario è ridotto al minimo indispensabile. L'esercizio fisico è fondamentale per aumentare l'ispermio energetico, per promuovere l'immagrimento, per tenere sotto controllo la pressione sanguigna, il colesterolo e i trigliceridi, per migliorare il rendimento del cuore ed infine per tenere sotto controllo la glicemia. È fondamentale svolgerlo con costanza e della giusta intensità, almeno 3 volte a settimana. Le lezioni proposte avranno una durata complessiva di circa 40 minuti. Queste sono comunque tutte indicazioni generiche che vanno modificate in base alle proprie capacità personali. È sempre e comunque consigliato svolgere attività cardio all'esterno, meteo e restrizioni permettendo, come le passeggiate oppure dei giri in bicicletta, della durata di almeno 30 minuti a passo oppure a pedalata abbastanza spedita.